Lili Gruber, chi è il marito Jacques Charmelot? Lili Gruber e Jacques Charmelot sono felicemente sposati, ormai dal 2000. Sono oltre 23 anni di matrimonio anche se la coppia, al di là di qualche paparazzata pubblicata sui giornali, è sempre apparsa piuttosto riservata. Charmelot è un giornalista di origini francesi, anche se non si sa esattamente quando sia nato. Infatti non si conosce bene la sua età. Sia in Francia sia in Italia si è fatto conoscere, prima come giornalista e poi anche come scrittore. Jacques Charmelot è stato, per oltre 30 anni, un corrispondente di guerra. È stato inviato nei Balcani e in Medio Oriente, oltre che nei principali teatri di guerra degli ultimi anni, ed ha vissuto anche a Washington e a Teheran, per portare a termine i suoi reportage. Nel 2008 ha anche passato un anno di lavoro a Baghdad, a capo della redazione francese locale. Inoltre ha anche lavorato per altre agenzie internazionali, legate alla stampa. Come Lilli Gruber, dunque, Charmelot è un giornalista molto famoso, che continua a portare avanti il suo lavoro, a livello internazionale. Jacques e Lilli vivono facendo la spola tra Roma e Parigi, per andare incontro alle esigenze lavorative di entrambi. Charmelot, però, passa più tempo a Parigi, dato che lavora in prevalenza dalla Francia. Lilli Gruber e Jacques Chirac sono convolati a nozze, nel luglio del 2000, nel municipio di Montagna, ossia nelle vicinanze di Egna. La scelta della location era partita proprio da loro. Nel corso di un'intervista al settimanale F, la Gruber ha dichiarato che il loro lavoro ha contribuito ad unirli molto. Infatti non sono mai stati in competizione ma, al contrario, sempre molto solidali e in questo modo, hanno capito meglio le difficoltà lavorative che l'altro stava, magari, attraversando. La conduttrice di otto e mezzo ha anche spiegato che il loro rapporto funziona perché hanno capito che ciascuno deve mettere una parte importante di sé nella storia. Per esempio, secondo Lilli Gruber la fiducia e l'attenzione sono molto importanti in una relazione. La Gruber e Charmelot non hanno mai avuto figli e lei stessa ne ha parlato nel corso di un'intervista. Infatti ha dichiarato che il non aver avuto figli è stata una sua scelta, in quanto avrebbe dovuto essere una persona diversa per fare la madre. Non si tratta di priorità o lavoro, ma dei propri desideri. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Jack Charmelot, e vi piace questa coppia? A voi i commenti! Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!